Tutta la nidride carbonica che abbiamo riversato in atmosfera ha alterato i cicli biologici e gli ecosistemi. È fondamentale aumentare la consapevolezza soprattutto nelle giovani generazioni, i millennials, che vivranno per vedere cosa potrà accadere. È uno dei passaggi del messaggio che Jeremy Rifkin, celebre economista e sociologo americano, ha inviato al 18esimo Festival Internazionale del Cinema Naturalistico Ambientale, che lo ha insegnato di uno dei prestigiosi gufi d'argento. Solo uno dei momenti significativi della serata delle premiazioni, celebrata sabato sera al Cineteatro Comunale di Teramo, condotta da Osvaldo Bevilacqua, conduttore della trasmissione Sereno Variabile, ha fiancato la cantante e presentatrice teramana Angelica Volpi. Un messaggio importante è quello di oggi al Festival Internazionale del Cinema Naturalistico Ambientale di Jeremy Rifkin. Sì, Jeremy Rifkin è molto lieto di ricevere questo premio ed è molto grato al comitato organizzatore del Festival Cinema Naturalistico Ambientale per averglielo concesso, perché non si tratta di premiare una persona, si tratta di premiare un lavoro di tutta un'equip, di cui fa parte anche la Vice Media, il regista Eddie Moretti, per veicolare una idea fondamentale, che è quella che l'uomo deve rispettare il pianeta, perché si vuole essere rispettato dal pianeta. Il Festival, di cui è direttore Riccardo Forti, si freggia della collaborazione dell'Arma dei Carabinieri e quest'anno ha toccato nella sua tradizionale formula itinerante le piazze di Penne, Silvia, Vezzano e Pescara. Applauso a scena aperta, al momento della consegna del premio alla carriera Federico Fazzuoli, sceneggiatore, autore e giornalista Rai, ha surto alla popolarità per essere l'ideatore e presentatore del programma Linea Verde. Chi si occupa di agricoltura e ha legato la produzione agricola alla necessità di un salto di qualità nell'ambiente non può non pensare a quanto è positivo il parco, l'area protetta, la protezione. E l'Abruzzo è quello che ha puntato su questo e quindi è la prima regione che ha puntato sulla natura e sull'ambiente. Anche natura come bellezza e non solo come protezione. A seguire gli altri premi e documentari quest'anno in concorso, quello al valore scientifico andato a Lodovico Prola per Quelli della Notte, il premio del pubblico è stato assegnato all'abruzzese Daniele Di Domenico per la serie animata in stop motion Sval e Barda. Il premio Cinema Promature è stato assegnato alla Francia per i documentari prodotti dal Centro Nazionale delle Ricerche Scientifiche Francese. Infine il Gran Premio della giuria, preseduta come ogni anno da Marcello Ramonino, è stato assegnato quest'anno a Luca Trovellesi Cesana e ad Alessandro Tesei per Living Toxic Russia. Grandi emozioni hanno regalato infine momenti musicali con protagonisti il celebre tenore Piero Mazzocchetti, il popolare cantastore Franco Palumbo in arte roppopo e il musicista di origine a tre anni Andrea Spada con il suo Kaisa Drum.